Ciao a tutti e benvenuti a questo mio nuovo video. Io oggi voglio parlarvi dei capelli secchi. Come possiamo andare a trattare i capelli secchi? Ho un impacco per voi molto veloce che potete fare direttamente a casa vostra a base di olio d'oliva. Andate a inumidire il capello, poi mettete l'olio d'oliva partendo dalla cute fino alle punte, in particolare se siete con le punte che sono proprio quelle più danneggiate. Poi andate, se avete i capelli lunghi, tiratele su come un mollettone, sono una serie. Andate a ricoprire tutti i capelli con una pellicola trasparente che permetterà di scavare la parte e permetterà alle sostanze nutritive dell'olio di penetrare efficacemente nel capello. Dopodiché lasciate agire per un'oretta. Io prediligo un'oretta, se non avete tempo fate anche mezz'oretta. Dopodiché andate a sciacquare il capello con dell'acqua per bene e poi passate comunque il vostro sciacquo e balsamo abituale. Mentre asciugate il capello vi accorgerete proprio che i capelli sono molto più notiti e morbidi e avranno proprio un aspetto assolutamente migliore. Se avete dei capelli molto secchi e danneggiati lo fate una volta alla settimana e lasciatelo agire per un'ora, non per mezz'ora. Nel giro di un mese avete otterrato veramente il massimo di risultati. Se continuate il trattamento nel tempo i risultati migliorano sempre di più e vedrete veramente una differenza nel capello. E' molto importante per mezz'ora dei capelli, più soprattutto quando sono sottoposti alle tinture e alle decolorazioni. Io spero di avervi dato un consiglio utile, per adesso vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Ciao!